Da sempre crediamo nel valore di ogni professione e il talento e ciò che non smette di sorprenderci e appassionarci. Progettiamo spazi adatti a farlo crescere in ogni territorio del nostro bellissimo paese per trasformare ogni spazio in un luogo di idee, di interazione ideale, di persone uniche che condividono la loro diversità, di donne pronte a prendersi il futuro, di giovani che profumano di tecnologia nel rispetto dell'ambiente e con la gioia di dare spazio alla natura. Crediamo che chiudere il cerchio significhi aprire le porte alla collaborazione, che fare impresa sia produrre lavoro con un grande gioco di squadra per dare un senso collettivo sempre più ampio al nostro fare. Con rispetto e ascolto per chi ci sceglie. Con solidarietà concreta per chi non può scegliere. Con la voglia di dare nuova bellezza a luoghi che l'avevano persa e attendevano un gesto per rivivere. Testimoni di un'istancabile circolarità di cui siamo parte e che al tempo stesso ci appartiene. Noi siamo Mond Office. Voi il nostro prezioso racconto quotidiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.